ed eccoci di nuovo insieme per questa seconda parte del nostro appuntamento della sera vi ricordo come faccio sempre anche il nostro indirizzo di posta per restare sempre in contatto con la redazione basta scrivere ad angoli chiocciola espansione tv punto it andiamo subito a scoprire l'ospite che è qui con noi saluto ringrazio daniele magon buonasera daniele grazie per essere qui con noi lo ricordiamo segretario generale femca cisle in particolare sindacato tessili e chimice quindi con la sua presenza in studio torna anche cisle dei laghi qui ad angoli allora daniele sono tanti gli argomenti che insomma questa sera seppur in poco tempo vuole in qualche maniera commentare direi partiamo proprio dal rapporto tra la formazione professionale e il mondo del lavoro in questo particolare contesto quindi il settore tessile e della moda bene bisogna dire che il settore tessile è un settore che è in forte sviluppo perché le tecnologie che ad oggi stanno utilizzando sono tecnologie che gli permettono di essere competitivo sul mercato mondiale e quindi hanno sempre bisogno insomma di tecnici e di persone capaci insomma di gestire queste innovazioni tecnologiche che sono necessarie insomma per poter andare avanti in un mercato così difficile quindi questa eccellenza del territorio di fatto continua ad essere un pilastro portante dell'economia bisogna dire che in realtà il territorio ha delle parti eccellenti e quindi delle aziende che si stanno sviluppando in maniera davvero proficua e che si stanno davvero distinguendo nel mercato e purtroppo altre aziende che ancora soffrono è di giusto dire che anche per il ricambio che avverrà sotto l'aspetto delle persone che saranno in pensione o comunque per il fatto che le nuove tecnologie che sviluppano appunto un nuovo mercato del lavoro hanno bisogno c'è bisogno di giovani che intraprendono questo tipo di carriera quindi il mercato tessile non è un mercato che si può pensare vecchio è un mercato sul quale si può investire sul quale bisogna studiare ed è un mercato che consiglio anche giovani che intraprendono diciamo così l'attività o che dovessero scegliere una scuola tecnica perché è un mercato che può dare futuro quindi addirittura c'è una prospettiva di evoluzione proprio in questa direzione anzi c'è addirittura una richiesta più forte di quello che il mercato offre quindi tornando al rapporto tra formazione e possibilità di contatto diretto con il mondo del lavoro lei dice bene consiglio addirittura di impegnarsi in questa direzione di impegnarsi in questo tipo di attività di studio perché lo studio tecnico è uno studio che se fatto seriamente può permettere poi ai giovani che affronteranno il mondo del lavoro di essere pronti ad accettare quelle che sono le opportunità che il mercato offre non è vero che basta un diploma per trovare un lavoro è vero che ci vuole un diploma adeguato e delle capacità puntuali quando il mercato le chiede allora in questo senso qual è il consiglio che si può dare ai giovani che stanno ascoltando in questo momento proprio perché possano in qualche modo fare una scelta ragionata ma anche in una prospettiva concreta di attuazione poi del loro impegno e di trasformazione in possibilità di lavoro bisogna che capiscano che il periodo che si passa nella scuola professionale è un periodo che va nel quale bisogna investire del tempo per imparare non è un tempo che si perde per trovare poi la maniera di avere un pezzo di carta in mano perché poi quello che il mercato chiede è la professionalità le capacità ed è un mercato che poi a fronte di capacità e professionalità corrisponde anche a delle quote economiche importanti e quindi non è vero che bisogna essere per forza laureati per guadagnare molto bene ma ci sono dei tecnici che sono molto richiesti sono capaci e di conseguenza hanno un mercato importante anche in un mercato del lavoro dove alla fine portano a casa sicuramente degli ottimi stipendi quindi i percorsi di formazione tecnica tornano a diventare i percorsi magari più immediati per poter concretamente poi trovare un lavoro smettono di essere discriminati o visti comunque in seconda in seconda sede rispetto a un percorso di laurea come diceva poco fa? bisogna anche qui distinguere cioè bisogna valutare bene la scuola nel senso che ci sono scuole che effettivamente non corrispondono poi diciamo così a far uscire dei tecnici che corrispondono poi alle richieste di mercato invece ci sono delle scuole che ancora oggi qui anche a Como diciamo così rispondono a quelle che sono le richieste di mercato certo che come sindacato noi abbiamo già chiesto una valutazione un po' più attenta in maniera da coniugare quelle che sono le richieste delle aziende e quelle che sono diciamo così le funzioni che si svolgono a scuola facendo in modo che così le richieste che le aziende fanno poi corrispondono a dei percorsi che i ragazzi effettivamente hanno fatto e quindi è necessaria una trade union tra scuola, lavoro e diciamo anche a sindacati in maniera tale da far vedere e comunque cominciare a comunicare ai giovani quale difficoltà possono trovare, cos'è il mondo del lavoro perché non è tutto facile, ci sono degli inciampi noi sugli inciampi non possiamo intervenire però possiamo essere lì ad aiutarli a rialzarsi Quindi un obiettivo ottimale potrebbe essere quello di andare incontro alle richieste delle aziende formando ad hoc i ragazzi che iniziano un percorso professionale? Sì, su questo noi ci siamo ma la prima cosa da fare è cominciare da casa a non pensare che la scuola professionale sia diciamo così una manifesta, poca attenzione nei confronti del figlio ma di fatto è un elemento che se fatto bene può portarlo a delle carriere sicuramente molto importanti dopodiché anche con le aziende bisognerà trovando le scuole che comunque accettano questo tipo di percorso aiutarli a dare un indirizzo un po' più specifico perché delle volte anche i diplomi tecnici poi non corrispondono a quelle che sono le esigenze di cui le aziende hanno bisogno, cioè ci sono delle scuole che sono invecchiate, bisogna dircelo Quindi è uno stimolo in questo senso, una provocazione anche nei confronti delle scuole perché stiano più al passo e rispondano di più alle esigenze concrete poi del mercato dell'occupazione? Sì, assolutamente sì perché è sbagliato il messaggio che alla fine è necessario portare a casa un diploma e che poi il mondo del lavoro è lì ad aspettarti non è così, il mondo del lavoro è selettivo e quindi c'è bisogno di partire da un processo che innanzitutto guardi al territorio cioè se abito a Como e non voglio trasferirmi magari il settore tessile è un settore che sicuramente darà sviluppo alla mia carriera e mi fa rimanere sul territorio dopodiché però non è che siccome ho un diploma tessile posso sicuramente trovare un lavoro insieme al diploma tessile dovrò aver fatto degli stage, dovrò aver fatto dei percorsi e comunque mi sarò impegnato in maniera tale che farò parte di quelli che verranno sicuramente selezionati perché il mercato ha bisogno di giovani promettenti Detto questo quindi il settore tessile è assolutamente una realtà importante sul territorio con i consigli che lei ha dato molto bene ai giovani però è anche un settore che si sta proiettando anche verso l'estero, è così? Assolutamente, in Italy guardate all'estero è riconosciuto anche sotto l'aspetto economico perché ha un valore aggiunto sia sotto l'aspetto della produzione che dei tessuti di conseguenza certe volte non gli viene riconosciuto il giusto valore alla produzione e quindi ci sono aziende che ancora fanno fatica però su questo bisogna porre la massima attenzione, bisogna che anche i nostri governanti ci pongano la giusta attenzione non si devono mettere etichette made in quando non c'è il made in perché altrimenti ci sono aziende che differiscono la competizione, cioè non competono in maniera leale le aziende che oggi stanno davvero valutando il mercato diciamo così fuori dall'Italia perché solo in Italia non si può sopravvivere stanno esportando molto bene, stanno valorizzando i loro mercati e dice ad oggi però c'è una conseguenza, cioè le aziende che hanno investito si sono mossi con delle produzioni che oggi diciamo così corrispondono a quelle che sono ricerche di mercato a quello che il mercato chiede, stanno vendendo e possiamo dire stanno anche assumendo altre aziende invece stanno perdendo mercato e purtroppo ci sono ancora oggi dei momenti dove alla fine persone perdono il posto di lavoro Magon, torniamo a parlare di occupazione, dove ci sono dati positivi e negativi a seconda che si parli di quantità e di qualità, vuole chiarire questo concetto? Sì, allora dispiace quando intervengono dei messaggi che non sono coerenti o corretti perché poi i messaggi numerici di fatto possono far affrontare l'argomento in maniera non puntuale quando si dice che il problema della disoccupazione in Italia si sta evolvendo verso un momento positivo e che mai così tanti occupati c'erano, è un dato numerico poi nella realtà se noi guardassimo le ore lavorate negli ultimi dieci anni cioè 2018, 2008, comunque 2019, 2009 ci sono meno ore lavorate, vuol dire che c'è meno qualità di posti di lavoro vuol dire che ci sono meno posti nell'industria vuol dire che ci sono più lavori saltuari più lavori con i part time cosiddetti obbligatori più lavori dove alla fine fai un mese sì e due mesi a casa e di conseguenza c'è un cosiddetto lavoro infelice e cioè lavorare bisogna perché è necessario lavorare la seconda domanda che ti fanno quando ti conoscono dopo il nome è che lavoro fai e di cosa ti occupi sarebbe bello potersi occupare di un lavoro che è dignitoso indipendentemente da quello che si fa a fronte del fatto che ti dà un'attribuzione che ti consente di vivere in maniera dignitosa che ovviamente è un diritto per tutti tra le altre cose ed è importantissimo è un diritto per tutti e diciamo così è la necessità è quello perché noi combattiamo per fare in modo che davvero le persone che vanno a lavorare poi la sera quando tornano a casa possono guardare la loro famiglia con la giusta serenità e anche per i giovani che fanno fatica a inserirsi nel mondo del lavoro perché gli è stato spiegato che diciamo così appena finivano le scuole trovano un lavoro non è così e quindi poi affrontano dei momenti particolarmente difficili che sono magari i primi approcci o magari le difficoltà a farsi dire di no un colloquio no, un altro colloquio no quindi sono delle prove difficili subito sin dall'inizio possono scoraggiare Magon siamo quasi in chiusura abbiamo due minuti ancora ma vorrei ricollegare questa sua ultima considerazione quindi il lavoro soprattutto il lavoro continuativo inevitabilmente poi a quando si andrà in pensione in questa direzione c'è un consiglio secondo lei che diventa importante telegrafico davvero Per me è molto importante che oltre a guardare quando vado in pensione si guardi a come vado in pensione perché davvero ci sono delle prospettive per le quali se non si lavora e se non si parte da subito poi si trovano i cassetti vuoti noi abbiamo delle prospettive riguardo al mercato che conosciamo e quindi il settore tessile che dice che nei prossimi 30 anni ci sono persone che andranno in pensione con il 50% del valore diciamo così di reddito che prendono oggi considerato che già oggi si fa fatica noi abbiamo l'ansia che poi possiamo creare davvero una generazione di poveri pensioni e quindi è importante costruirsi le pensione integrative è importante guardare al futuro con la giusta attenzione cercando di valorizzare da subito quello che è un processo che non si può trovare non pronto Certo, negli ultimi 15 secondi quindi ancora più telegrafico è vero che CISL in questo momento si trova in una fase transitoria e se sì quale? Sì, noi adesso abbiamo un reggente e quindi una persona che sta diciamo così gestendo il sistema che di fatto lo sta gestendo ancora molto bene noi corrispondiamo diciamo così in tutti gli ambiti a quelle che sono le necessità di tutte le persone quindi stiamo molto attenti alle persone per quanto riguarda l'aspetto politico credo che questo sia l'anno in cui noi possiamo ricompattare il sistema e ricostruire una squadra pronta ad essere competitiva e pronta diciamo ad essere utile alle persone che hanno bisogno Bene, io saluto e ringrazio Daniele Magon per essere stato qui con noi e buon lavoro Grazie anche a voi, rimanete lì come sempre tra poco la linea ai colleghi dell'informazione Grazie a tutti